Francesco Mastromauro rivolge una richiesta diretta al governatore d'Abruzzo. Il tema è quello dell'emergenza maltempo. Questo governo regionale invece ha messo in campo delle azioni e anche risorse. Il problema è un altro, che a fronte di queste azioni e di questi impegni io ho rilevato come nell'approssimarsi della stagione delle piogge, come le ricordava, i lavori al Salinello che erano iniziati si sono bloccati quasi 15 giorni fa. Poi mi è stato detto bloccati perché la regione è l'autorità competente, la stazione appaltante è la provincia. La provincia mi ha detto, il presidente della provincia, sono sospesi perché non ci sono più i soldi. Allora voglio sapere perché non ci sono più i soldi. La storia risale al marzo 2011 quando Giulianova si trova nell'emergenza scaturita dall'esondazione del Salinello e del Tordino, rispettivamente posti a nord il primo e sud il secondo. Una minaccia che oggi continua a preoccupare l'amministrazione comunale che chiede l'intervento diretto della regione. Secondo aspetto riguarda il Tordino, dove erano impegnate somme, ci erano stati annunciati interventi anche lì sull'asta fluviale verso Monte e invece non si vedono i lavori. Sono molto preoccupato per la sponda di Cologna e per la sponda di Colleranesco. Allora, in maniera adulta, da sindaco e da amministratore, ho inviato una nota al governatore della regione Abruzzo che sono convinto che sarà ancora una volta sensibile questo governatore e gli ho chiesto di tornare nella nostra città per illustrare a me e al comitato che si è costituito a difesa dei fiumi e quindi a difesa della incolumità di due quartieri che, lo ricordo, quella notte del 1 e 2 marzo del 2011 stavo per evacuare perché erano attinti dalla piena e dalla esondazione dei due fiumi. ripeto che il governatore ci venga a sincerare sulla ripresa di questi lavori e sulla ultimazione a difesa della incolumità di tutti noi.